E' stata inseguita in macchina. E' una ragazza che corre con le cuffie. Un furgone bianco parcheggiato. Cosa? Un furgone bianco parcheggiato. L'unico sopravvissuto è il bambino di 10 anni che si trova in un istituto d'accoglienza. Posso aiutarti? È il furgone bianco! Hanno ammazzato due polizonti davanti a casa tua. L'unico sopravvissuto! L'unico sopravvissuto! Sì!